Forza Italia Grigentina, riorganizzazione nel territorio e rilancio politico. Ascoltiamo in proposito il coordinatore provinciale, l'onorevole Vincenzo Giambrone. Il rilancio nel territorio, la riorganizzazione di Forza Italia Grigentina, il lavoro del coordinatore provinciale, l'onorevole Vincenzo Giambrone. Veda, come dicevo, stiamo cercando di ritornare nel territorio dopo l'esperienza della Casa della Libertà. E lo stiamo facendo riscontrando entusiasmo da parte di chi in effetti ha meritato, sia il suo consigliere comunale, amministratore o comunque libero cittadino, e stiamo cercando di mettere assieme più persone possibili che condividono lo stesso progetto politico. I risultati sono soddisfacenti. Non vorrei che qualcuno dispiace a questo, perché la porta non l'abbiamo chiusa, né l'ho chiusa a nessuno. Anzi, ci aspettiamo da più persone, specie quelle che hanno e hanno avuto responsabilità amministrative, che si avvicinano al partito perché noi vogliamo essere collaborati in un progetto di rilancio. Il tempo ormai del 40% è finito, abbiamo consapevolezza piena e vorremmo comunque che a decifre, ma da due a salire. Quindi questo passa a mezzo del consenso di sapersi proporre, di sapere essere anche composti e lanciare il progetto delle persone che sono moderate, ci appartiene essere moderate. E questo segnale che arriva oggi dall'America deve far pensare tutti. Nessuno pensava, i mass media, che lanciavano altre idee e quant'altro. Ovviamente viene facile oggi salire sul carro del vincitore e dire anche io pensavo così e volevo che. Io per la verità non dispiacevo il discorso di Clinton, ma se si voleva dare un taglio, lo dicevo giorni fa, sarà difficile che vinca Trump, ma per l'America, per il mondo non sarebbe sbagliato un momento di rottura perché c'è una stasi che porta alla morte. Quindi Forza Italia si sta organizzando per creare condizioni che il centro-destra possa ritornare a governare e la Sicilia e l'Italia.